salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale io sono sempre fabio alfi e niente volevo dirvi scusate l'assenza per chi attendeva qualcosa ma in pratica io sono stato assente perché ho allestito un altro ambiente per fare i video momentaneamente stiamo allestendo stiamo cercando di isolare l'ambiente è bellissimo, mi faccio vedere, mi chiamiamo Ultralicica, guardate com'è carino fatto bene ora stiamo vedete, stiamo ancora con tutti i free a reel, ringrazio StopSound che è un amico stiamo cercando di fare anche delle prove tecniche atmosferiche e niente volevo dirvi che a breve partiranno altri video, scusate sono uscito dal schermo e niente faremo altri video, altre cose parleremo del più e del meno ma soprattutto cercherò di fare qualcosa ovviamente io avendo fatto fino ad ora adesso solo cover non ho monetizzato quindi è un lavoro cioè è diventato diventa troppo un lavoro è troppo un dispendio di energie per i guadagni che ci sono perché io ho pure da lavorare per mangiare quindi certe volte non posso più dedicarmi come prima però se il canale cresce se dovesse crescere veramente allora là ci sarebbe diciamo un rientro anche per gli investimenti fatti allora riesco a fare più cose quindi molto probabilmente ho due tre idee da proporre, da fare poi sto cercando di fare la mia band con inediti e altre cose per chi ci creerà ancora la musica anche se non ci sono, la musica è finita e niente volevo dirvi solamente di attendere un altro poco e partiremo con i video a palla sai che c'è anche un bel sound qua dentro, senti senza fare con rumore, senti bene qua mi piace e abbiamo montato la ludwig 75esimo anniversario, quella con l'aquiletta scusatemi, vabbè farò tante cose, una delle quali è fare eventualmente delle cover ma solo la batteria cioè suonare solo la batteria proprio isolata, isolation track, praticamente farò una cover Jeff sta vedendo, sta sentendo qualcuno, dobbiamo fare anche la porta isolata quindi perciò non posso suonare ancora forte e isolato, cosa dite Jeff? e niente farò delle cover praticamente dove si sentirà solo la batteria e voi eventualmente se siete altri musicisti potete suonarci su e studiarvi la batteria di quel brano là fatto da me quindi come dico sempre buono la prima ma soprattutto senza copiare del tutto cercherò sempre di far uscire un buon sound per il live, per diciamo cotto e mangiato niente di fare proprio la copia perfetta io credo che è meglio suonare male come sai suonare tu che suonare, cercare di suonare male come suona un altro prendere diciamo la filosofia, l'interpretazione, il sound di chi ha fatto quel brano ma soprattutto renderlo tuo e cercare di farlo girare il meglio possibile per le tue capacità ok? quindi questo è un argomento che tratterò iscrivetevi al mio canale perché mi date un po' di motivazione mi date un aiuto e un supporto che potrebbe far crescere questa situazione anche perché ci sono delle cose in ballo e vorrei tenermi diciamo per quando il canale crescerà un po' di più sperando che crescerà perciò iscrivetevi al suo canale e noi perché tanto ne siete tantissimi siete tantissimi siete dagli Stati Uniti, dal Sud America e comunque siete parecchi quindi io vi ringrazio e vi do muchas gracias a todo nel mondo e thank you so much everyone e niente stavate bene ciao